La regione toscana ha lanciato una campagna di promozione per rimettere in moto il comparto turistico colpito dall'epidemia di covid. Toscana rinascimento senza fine, è questo il concept studiato da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana per un'iniziativa rivolta al turismo divicinato da estendere poi alle grandi città dell'area Schengen e con le riaperture fino al 2021. La campagna prevede anche un kit di promozione destinato agli operatori turistici che possono così personalizzare il messaggio vestendolo con il proprio brand e le proprie peculiarità. Un'offerta che si avaria, la Toscana va dalle montagne, all'Appennino, ai colli che sono bellissimi e unici, a una costa variegata, alle città d'arte. Chi vuole venire in Toscana sa di trovare tutto questo in termini di una qualità assoluta a livello mondiale e sa di trovare anche una regione sicura dove la protezione dei cittadini, della salute è assicurata al meglio possibile a chi è toscano e a chi viene a trovarci. Perché vogliamo essere vicini alla fatica, allo sforzo che stanno facendo tanti lavoratori, tanti imprenditori che si sono subito rimessi in moto, si sono rimboccati le mani, che hanno accettato anche i vincoli delle riaperture comprendendo quanto siano importanti per dare ai cittadini un servizio sicuro. La campagna vuole suscitare emozioni e raccontare uno stile di vita toscano per invogliare i turisti a soffermarsi più a lungo nei borghi e nelle città d'arte. Ecco, perché qui e non altrove è nelle nostre immagini, anche nel nostro modo di comunicare, ma è soprattutto nella nostra realtà, nella nostra autentica offerta. La campagna si rivolge a questo, ai nostri ospiti, ma si rivolge al tempo stesso ai nostri operatori. Vuole essere uno strumento per operare meglio, per essere più competitivi rispetto ad altri. Ed è per questo che con i diversi linguaggi, nelle diverse modalità, ma con continuità nel tempo, d'ora in poi, fino alla fine dell'anno, accompagneremo questo settore con una corposa azione di promozione. L'operazione, oltre che promuovere la destinazione toscana, punta a veicolare traffico web sulle offerte di soggiorno al mare, in montagna, dalle terme alle escursioni e degustazioni. Quindi la campagna vola alto perché il payoff di destinazione, che è Toscana rinascimento senza fine, richiama un'immagine evocativa, però atterra immediatamente con le immagini sui 10-12 prodotti turistici della Toscana e quindi siamo immediatamente pronti a partire anche con le promozioni verticali di unione dei prodotti, a partire dal balneare, ma non solo il turismo montano che sta andando molto, nei borghi, o anche un turismo particolare nuovo anche per le città d'arte. Grazie a tutti.